Non ha paura di cadere, ma voglia di volare, fatemi sentire la noce, questa è... Questa! E ora, signori, mano destra sul cuore, ci andiamo tutti qua in piedi, per il primo, il normale, il carino! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!